In giro tra la grande bellezza di Roma con il monopattino, la bici elettrica, un viaggio rispettoso dell'ambiente e ora agile anche per la mente e le orecchie. Le infinite meraviglie culturali e storiche della capitale saranno raccontate a chi sceglierà la micromobilità elettrica grazie ad un'audioguida dedicata in sé lingue. Vicino ai principali siti di interesse darà delle pillole da 60 secondi per raccontarci che cosa stiamo vedendo. Mobilità sostenibile e turismo, a Roma si può fare. Pillole per incuriosire che non si sostituiranno alle classiche visite turistiche, ha spiegato la sindaca nel presentare il nuovo servizio. Pensato per i romani e per i turisti che tornano ad affacciarsi nella città eterna e sono alla ricerca di offerte sempre più innovative e personalizzate. Dall'esordio dei monopattini sharing, nell'ultimo anno le corse sono state 600.000 con una media chilometrica di 2,5 km in circa 14 minuti. Ma il dato più rilevante è il risparmio di CO2 pari a oltre 2.000 tonnellate. L'attenzione all'ambiente è importante.